Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove c'è un chilometro di coda per traffico intenso tra Ulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. In A1 coda e a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPL in rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Personale sulla strada allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrata in entrambe le direzioni. Infine per gli aerei il volo City Jet da Londra atteso a Firenze alle 10.15 atterrerà alle 13. Il volo City Jet da Firenze a Londra South End delle 10.55 partirà alle 13.30. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!